Sei stato accostato per l'ennesima volta alla banchiera della prima squadra dopo l'esonero di Auteri, un pizzico di rammarico ce l'hai oppure va bene così? Ma no, sicuramente il sogno, essendo pure pescarese, essendo che sto qui da diversi anni, ecco l'obiettivo mio sicuramente spero un domani di poterlo raggiungere. Però noi continuiamo a lavorare, poi c'è il presidente e i direttori che sono loro che devono decidere e se dovesse succedere nel futuro credo che sia per me anche un sogno che vorrei realizzare. Quindi assolutamente un po' il pensiero c'è, però ecco continuiamo a lavorare, io dico alla fine se uno lavora bene e con merito prima o poi l'occasione arriverà. Assolutamente sono accorrono a te, sarebbe il coronamento di tanti sacrifici. Pescara-Inter al poggio sabato alle ore 10.30, finalmente la prima vittoria in casa. Questo ce l'auguriamo, ce l'auguriamo soprattutto per i ragazzi, anche se davanti abbiamo una squadra importantissima, una squadra di livello sicuramente molto alto. Però noi ci proveremo, ci proveremo come abbiamo cercato di fare anche nelle altre partite e quindi vediamo come andrà a finire. Se riuscissimo ad ottenere questo risultato sarebbe bello per loro perché sarebbe la prima vittoria in casa. Abbiamo vinto fuori casa, in casa siamo andati molto vicini, però abbiamo ancora altre 6-7 partite per cercare di sfatare questa cosa. Grazie. Grazie.